Parliamo con Thomas Predavissi della vittoria di oggi. Thomas migliore in campo oggi con un gol, un palo strepitoso, una grande prestazione di sostanza e anche di corsa oggi. Ma sì, sono contento, sto trovando la forma migliore ma sono contento soprattutto per la prestazione della squadra perché volevamo rifarci da quel 2-2 di draw dove eravamo in vantaggio e come degli stupidi ce li siamo fatti riprendere e siamo contenti per questo. È stata una partita molto diversa, più che dalla partita del draw dall'ultimo quarto d'ora di draw, molto attenti, molto precisi, anche voi attaccanti avete pressato molto, è stato un gran bel pergo, attento, forse è la qualità migliore di oggi. Sì, sì, l'obiettivo era proprio quello perché in quel quarto d'ora lì ci siamo proprio spenti. Oggi sapevamo che loro erano una squadra insalute che correva molto, molto rapidi, però l'obiettivo è nostro, ci siamo andati tutti insieme a prendere l'attacco e abbiamo avuto una grande prestazione. Sì, beh, in teoria ci manca una vittoria se non sbaglio, abbiamo due partite a disposizione anche se domenica abbiamo il Monza ma hanno già vinto il campionato, però ce la giocheremo e vogliamo vincere in casa. Importante è anche il posizionamento in classifica secondo te? Assolutamente sì, giocare al Voltini davanti ai nostri tifosi è sicuramente meglio. Grazie.